Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parliamo di quali parti di un testo che stai studiando puoi lasciare da parte, quindi quale puoi ignorare, quale per un primo momento almeno puoi fare in modo di non considerare troppo per concentrarti sulle informazioni più importanti. Quindi oggi voglio spiegarti questo step importante, soprattutto nella fase della lettura, nella comprensione del testo, con un esempio. Parliamo dell'Italia e della sua letteratura. Ovviamente non ci interessa, come sempre, il contenuto, anche se può rientrare nei tuoi gusti, nei tuoi interessi. La cosa importante è capire la strategia, qual è la tecnica, come viene applicata, così da poterla replicare anche in altre tipologie di contenuto. Quindi nel caso specifico, oggi ovviamente leggeremo il testo, ma lo faremo un po' di più, proprio come quantità di informazioni che leggiamo, per fare in modo di cogliere più aspetti che sono importanti e di conseguenza anche quelli che sono secondari. E poi ti consiglio di seguire tutto il video perché alla fine ti dirò anche come comportarti con queste parti che per ora mettiamo da parte. Quindi iniziamo subito con una lettura e poi successivamente andiamo a commentare quali parti considerare e quali parti eliminare. Letteratura e identità nazionale. La letteratura sfugge ad ogni definizione troppo recisa e determinata. Al suo spazio si possono ascrivere tutte le forme che la parola umana assume quando si stacca dall'uso più immediato, dalla funzione primaria di scambio all'interno di specifiche comunità linguistiche. Già nell'ambito dell'oralità, la parola può tendere a vari livelli a svincolarsi dall'immediatezza, a svolgere funzioni culturali anche molto articolate, a creare occasioni di conoscenza e di intrattenimento pubblico, a dar corpo a sentimenti collettivi, a costruire testi memorizzabili, forme e modelli variamente riutilizzabili. Nel passaggio alla scrittura, tutte queste forme si affidano alla lettera, donde appunto il termine letteratura, dando luogo a qualcosa che resta nelle carte, che si stacca dalla voce e dalla diretta presenza personale, con una possibilità di circolazione in spazi anche distanti e di permanenza al di là del breve giro delle vite umane. Ora, fermiamoci con questo pezzo che abbiamo letto, un po' di più rispetto a quello che leggiamo di solito, come ti dicevo prima, per riuscire a cogliere qualche informazione in più. Ora, andiamo ad acchiappare un attimo qual è il concetto principale, e in questo caso è abbastanza evidente. Il concetto principale, e te lo evidenzio, è la letteratura. Quindi ovviamente stiamo parlando di questo. E al tempo stesso stiamo cercando una definizione di che cos'è la letteratura. Ora, la prima frase che ci viene proposta è la letteratura sfugge ad ogni definizione troppo recisa e determinata. Questo sì, è un'informazione importante perché se stiamo parlando, e stiamo spiegando cos'è la letteratura, quindi durante l'esame, riuscire a comunicare che la definizione non è semplice da fornire, e che quindi se è troppo recisa e determinata potrebbe portarci a non capire esattamente cos'è la letteratura, allora in questo caso, sì, è qualcosa che anche stilisticamente nel nostro modo di esporre è bello anche da ascoltare. Però non è un'informazione primaria, perché non ci dice ancora qual è la definizione. Posso dirti tranquillamente che la definizione di letteratura si riferisce a tutte le forme che la parola umana assume quando si stacca dall'uso più immediato. Quindi questa è una vera e propria definizione, non tanto il fatto che è difficile trovarne una troppo recisa e determinata. Quindi, come vedi, c'è una parte, che è la parte della definizione in sé, non la caratteristica recisa e determinata, che sono due elementi, e ci sono elementi che emergono più rispetto ad altri, e sono più importanti rispetto ad altri. Quindi, per riuscire a capire quale informazione puoi lasciare da parte e quale ti serve, prova a utilizzare quell'informazione per rispondere a un'ipotetica domanda. Per esempio, in questo caso, una domanda potrebbe essere Qual è la definizione di letteratura? Se io ti dicessi la definizione di letteratura sfugge se è troppo recisa e determinata, potresti dirmi Ok, hai messo, sì, le basi per rispondere, ma non ho mai dato nessuna risposta. Se invece ti dicessi la definizione di letteratura riguarda tutte le forme che la parola umana assume quando si stacca dall'uso più immediato della parola stessa, allora in quel caso ti ho risposto. Se a questo poi successivamente aggiungo che dare comunque una definizione che sia troppo determinata e recisa è difficile, allora sto, diciamo, abbellendo un po' quello che ti sto dicendo. Però l'informazione intanto è passata. Ti ho dato una definizione di che cosa è la letteratura, e poi ho aggiunto qualcosa in più. Questo è il criterio che devi utilizzare. E utilizziamo questo criterio anche per le restanti parti. Vediamo, per esempio, dalla funzione primaria di scambio all'interno di specifiche comunità linguistiche. Questo, per esempio, potrebbe essere un'informazione aggiunta alla definizione. Quindi, ricontestualizzando, se dovessi chiedermi qual è la definizione di letteratura, posso dirti riguarda tutte le forme che la parola umana assume quando si stacca dall'uso più immediato, dalla funzione primaria di scambio all'interno di specifiche comunità linguistiche. Ora, in questo caso, ti ho dato un'informazione che potrei lasciare da parte, però posso anche utilizzarla in una prima risposta per dare una risposta più completa. Quindi, non è esclusivamente la prima parte che abbiamo visto qui, ma vado più nel dettaglio. Ora, in questo caso, in base al tempo che hai anche durante l'esame, potresti scegliere di dare una definizione più immediata o un po' più estesa, soprattutto se ti viene richiesta una risposta estesa. Quindi, comunque, questa seconda parte della definizione è più importante rispetto al fatto che è difficile trovarne una recisa e determinata. Quindi, come vedi dalla lettura, le informazioni che hai a disposizione non sono tutte allo stesso livello. Ci sono informazioni che sono più... che possiamo dire che emergono di più rispetto ad altre. E quindi, devi cercare di capire quali sono quelle primarie e, di conseguenza, andrai a trovare quelle che puoi scartare, quelle che puoi non considerare. Vediamo anche l'altra parte del testo che abbiamo letto. Già nell'ambito dell'oralità, la parola può tendere a vari livelli a svincolarsi dall'immediatezza, a svolgere funzioni culturali anche molto articolate, a creare occasioni di conoscenza e di intrattenimento pubblico, a dar corpo a sentimenti collettivi, a costruire testi memorizzabili, forme e modelli variamente riutilizzabili. Ora, il problema di questa specifica frase è il fatto che, sostanzialmente, è un elenco. Quindi noi non possiamo fermarci subito a cercare di memorizzare questo elenco. Dobbiamo cercare di capire qual è il nocciolo della questione. E qua, la cosa importante da capire, che ci dice già nell'ambito dell'oralità, la parola può tendere a vari livelli a svincolarsi dall'immediatezza. Quindi questo è l'elemento importante. Possiamo aggiungere proprio il svincolarsi dall'immediatezza. Quello che viene dopo è secondario. Secondario non vuol dire che è inutile o non vuol dire che non devi studiarlo. Però vuol dire che in questo momento, per capire qual è la parte fondamentale del testo, non c'è bisogno che ti fermi troppo su questi, potremmo dire, dettagli, che in realtà sono cose che arricchiscono poi quello che è il discorso che fai. E quindi, se dovessimo fare un attimo il punto, dopo aver raggiunto questo passaggio, per esempio, posso dire che la definizione di letteratura si riferisce a tutte quelle forme che la parola omana assume quando si stacca dall'uso più immediato. E anche nell'ambito dell'oralità, quindi non della parola scritta, ma della parola scambiata a voce, appunto, può tendere a svincolarsi da questa immediatezza. Quindi già ho dato una definizione. Poi, come posso aggiungere che la definizione è troppo precisa e determinata e difficile da aggiungere? Posso anche aggiungere qualche esempio su come la parola, l'oralità della parola arriva a svincolarsi dall'immediatezza. Quindi, come vedi, anche in questo caso ho creato una differenza di informazioni. Ci sono delle informazioni, più che altro, che posso mettere da parte e altre informazioni, invece, che devo mantenere nell'immediato e che mi devono guidare in questo momento. Continuiamo anche con l'ultimo passaggio che abbiamo letto. Nel passaggio alla scrittura, tutte queste forme si affidano alla lettera, donna appunto il termine letteratura, dando luogo a qualcosa che resta nelle carte, che si stacca dalla voce e dalla diretta presenza personale, con una possibilità di circolazione in spazi anche distanti e di permanenza al di là del breve giro delle vite umane. Quindi qua si aggiunge qualcosa, un elemento molto importante, cioè l'elemento lettera, che poi è quello che ci permette anche di capire l'origine della parola letteratura, e che è il modo, e qua ce lo dice, in cui avviene questo svincolarsi dall'immediatezza. Infatti ci dice proprio che nel passaggio alla scrittura tutte queste forme si affidano alla lettera, dando luogo, danno luogo a qualcosa che resta nelle carte, che si stacca dalla voce e dalla diretta presenza personale. Quindi questo possiamo aggiungerlo. Poi, quello che viene aggiunto dopo, al di là del breve giro delle vite, eccetera, come quello che abbiamo visto prima, è presente, dobbiamo saperlo, ma in un secondo momento. Quindi magari quando ritorniamo nella lettura, questo è un passaggio importante, come ti dicevo prima, di seguire tutto il video perché ti avrei detto proprio questo. Cioè, quando poi ritorniamo nel testo, perché ti sconsiglio vivamente di leggere il testo una volta sola, nel ritorno, abbiamo già capito qual è la parte fondamentale del testo, possiamo cominciare ad aggiungere tutte quelle cose che ci rendono in grado di abbellire, di arricchire quello che dobbiamo comunicare, quello che dobbiamo dire. Quindi, facendo un po' un sunto di tutto quello che abbiamo fatto fino a questo momento, per capire quali parti del testo possiamo mettere da parte, possiamo, in questo momento, per utilizzare una parola del testo, svincolare dalla comprensione che deve avvenire adesso, io so che una definizione di letteratura mi aiuta a capire che è questa, riguarda tutte le forme che la parola umana assume quando si stacca dall'uso più immediato, soprattutto legato all'oralità della parola. E questo poi si tramuta nel passare da oralità a scrittura attraverso la lettera. Ed ecco che qui si parla appunto di letteratura. Quindi, come vedi, ho creato un percorso tra le parole che poi posso arricchire con nuove informazioni. Posso dire che la definizione troppo recisa e determinata non si può raggiungere facilmente. Poi posso aggiungere qualche esempio nel modo in cui si svincola da questa immediatezza. Per esempio, funzioni culturali anche molto articolate, creare occasioni di conoscenza, eccetera. E poi, nel caso dell'importanza della lettera che dà il nome a letteratura, questo ci permette di far circolare queste informazioni e farle permanere al di là del breve giro delle vite umane. Quindi, come vedi, è facile riuscire a capire quali informazioni mettere da parte perché non puoi considerare solo quelle, solo sottolineare e dire questo non è importante, questo non lo chiede, questo non mi interessa. No, devi capire quali informazioni sono centrali per capire che cosa vuole dire l'autore, quindi di cosa stiamo parlando e poi comprendere come a questo puoi aggiungere informazioni secondarie che completano quello che devi andare a dire. E poi, ovviamente, non ti dimenticare mai che non sono da scartare ma sono da aggiungere in un secondo momento così da non appesantire troppo il momento presente, possiamo dire, in cui stai studiando. Quindi, questo è quello che ti volevo proporre oggi per aiutarti a velocizzare un po' la lettura, la comprensione e al tempo stesso riuscire a capire che le informazioni non devono essere scartate e dobbiamo fare il classico salto del paragrafo tanto per sbrigarci a studiare, però ci sono delle informazioni che sono prioritarie rispetto ad altre. Se ti rimangono dubbi con i siti, ovviamente, come sempre, ti invito a scrivere nella sezione dei commenti o in privato se vuoi evitare di esporti in pubblico. Quindi, ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato, ti invito, se ti va, ad iscriverti al canale e in ogni caso io con moltissimo piacere ti aspetto nel video che uscirà domani. e in ogni caso